Risotto al Cannonau Il colore è quello violaceo del vino, il profumo ricorda i fiori e i frutti rossi, il sapore caldo appena speziato. È così il risotto al Cannonau, un inno alla Sardegna, terra di mare e sole, ma anche di entroterra e colline, quelle dove nasce il Cannonau, vitigno rustico, forte e resistente. Nome Luigi, cognome Pomata, professione Chef, segni particolari, innamorato della Sardegna, ha una fissa per il tonno e il suo motto è guardare sempre avanti. Riso vero e nano con Cannonau e pecorino. Questo riso qua richiede un po' l'identità della terra dove arriva, che è la Sardegna. Abbiamo due elementi fondamentali che sono il vino rosso e il Cannonau, che è il vino utotono per eccellenza dalla Sardegna, e il pecorino, formaggio tipico, questa volta utilizzato un pecorino stagionato. La cottura viene fatta quasi totalmente col vino, in modo che la parte etanica e la parte alcolica fuoriesca e alla fine viene semplicemente mantecato col pecorino. A fine cottura un po' di burro, sale e pepe. Un riso semplicemente delicato, però esalda tutti i profumi di questi due aromi fondamentali del vino e del formaggio. Grazie a tutti.